Ciao a tutti, io sono Matteo Buselli, in arte è semplicemente Buselli e provo a fare il cantautore. Oggi, il 12 maggio, è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Coupon. È un brano un po' particolare, diciamo si sente anche un sapore di rinascita, di allegria dopo anche un periodo così duro che è stato appunto il Covid. E spero appunto con questo brano di regalare un po' a tutti voi un sorriso, perché no? Il brano è stato scritto da me e è stato prodotto da Daniele Master One, che ha saputo creare un entourage veramente interessante, con professionisti del settore musicale, direi, insomma, molto noti al pubblico. Tra cui, insomma, abbiamo la collaborazione di Cesare Chiodo al basso, abbiamo avuto Gianni Cerone alla batteria, Diego Perugini alla chitarra e naturalmente Luca Ravanni, che insieme a Master hanno curato gli arrangiamenti e lui stesso le tastiere. Quindi, insomma, un entourage molto forte, senza dimenticarci di Alex Ficciafuochi, che ha curato il mastering e i transfer del brano. Io sono veramente molto contento, insomma, di essere arrivato a questo giorno, finalmente Cufon è fuori, potrete ascoltarli in tutti i digital store, da Spotify, iTunes, YouTube, insomma, cercatemi, Buselli. E vorrei anche fare altri ringraziamenti, come appunto Fabrizio Simoncioni, che è colui che ha distribuito il brano con la sua etichetta discografica di Pot Record. Fabrizio Simoncioni, credo, sia uno tra i maggiori produttori italiani, ha prodotto da Ligabue a Gianna Nannini, Piero Pelu, Daniele Silvestri. E trovare da parte sua questa consolidazione, insomma, questa voglia di dire, va bene, accetto il tuo lavoro, proviamo a vedere cosa succede. Ti distribuisco, insomma, penso che sia una possibilità enorme, soprattutto per un ragazzo, io ho 23 anni, sono giovane, quindi penso sia stata veramente una bellissima cosa. E voglio ringraziare veramente tutte le persone che mi stanno seguendo, tutte le persone che mi vogliono bene, che mi hanno dato una mano negli anni, che continuano a farlo tutt'oggi, perché comunque, appunto, penso non ci sia cosa più bella che comunque creare questa sinergia, questa voglia di dire, va bene, insieme possiamo fare qualcosa di più, insieme possiamo andare avanti, non c'è regalo più bello, appunto, anche oggi siamo qua in questa location per la presentazione del brano e vedere, insomma, tante facciamiche, persone che mi vogliono bene, penso che sia veramente il regalo più bello che ci possa essere. E di questo ne posso essere più che felice e naturalmente grato. Ringrazio tutti, uno per uno, vorrei farlo ora, tra poco arriveranno tutti gli invitati, ma sono veramente contento. E quindi, che dire, ascoltate il coupon di Buselli su tutti i visitatori. Ciao! E questo basso! E questo basso! Grazie.